Ciao ragazzi, come vedete ci troviamo di fronte all'App Store di Torino. Abbiamo appena fatto un giro all'interno, ma non ci sono tracce dell'iPad 2 al momento. I dipendenti non sono stati in grado, o quantomeno non hanno voluto fornirci informazioni maggiori rispetto all'uscita dell'iPad di domani. I cartelli promozionali ci ricordano che verrà lanciato domani alle 17. Vi invitiamo quindi a seguire il live su iPhone Italia e iPad Italia, a partire da domani mattina alle 10. Vi aspettiamo ragazzi, seguiteci!